oggi andremo ad allenare gli addominali in solo quattro minuti si ragazzi avete capito bene solo quattro minuti di allenamento di addominali questo allenamento consisterà nel fare un circuito e andremo a fare 20 secondi esercizio e 10 secondi recupero l'unica cosa che dovete fare è mettere il telefono accanto a voi e allenarvi con me ok ragazzi partiamo subito senza perdere tempo 10 secondi partiamo iniziamo con venti secondi di crunch via cerco ragazzi respiriamo ispiriamo ed espiriamo ok adesso riposiamo 10 secondi e poi partiamo nel l'esercizio che sarebbe mountain climber questo po più difficilotto 20 secondi via 12 controlliamo ok 10 secondi e partiamo con il reverse crunch vi raccomando cerchiamo di portare il bacino al petto quindi fare questo ok 10 secondi e partiamo con un sit up questo è ancora più difficilotto 1 della finito 2 ok 3 aiutiamoci anche per le braccia cerchiamo di gestirci ok direzione di riposo questa è veramente dura e da fare un leg resi cioè questo qui ok cerchiamo sempre di portare il bacino al petto quindi alzarlo al minimo bene questo è dura oh ok andiamo a fare le ultime 3 1 ora andiamo a fare il tocco delle punte questo è bello duro pure eh quindi questo 1 2 ok le ultime 2 che sono più difficilotti perché siamo più allenamento questo è un'esercizio è un'esercizio che sarebbe questo aspetta ok ok teniamo teniamo duro ok adesso l'esercizio è un'esercizio più difficile di tutti è la barchetta quindi dobbiamo stare in isometria in questo modo più tempo che riusciamo cioè 20 secondi alla fine teniamo 10 secondi teniamo teniamo che è finito 2 1 ok allenamento completato ragazzi 4 minuti se riuscite comunque potete fare anche un altro giro adesso riposate due minutini e ricominciate a fare un altro round come vi sentite voi ok ragazzi allenamento completato non so voi ma io sono sfinito incredibile comunque ragazzi questo qui per me è il mio sesto giorno di allenamento della settimana però va bene così ci sta a fare addominali e anche un po' di cardio e bruciamo calorie vi ricordo di iscrivervi al mio canale lasciare un commento lasciare un like fatemi sapere cosa ne pensate di questo circuito di addominali vi ricordo di seguirmi anche su instagram dellucamollo-gm e su tiktok dellucamollo.gm su prodis su okamazon codice sconto mollo per risparmiare e per supportarmi per quanto riguarda l'info coaching online lascio tutto in descrizione ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video